Buonasera da Extra, l'arte che si indossa, protagonista della puntata di questa sera dell'approfondimento di Telepavia. È davvero una creazione particolare e interessante quella che vogliamo proporvi questa sera, che sarà anche protagonista di una mostra che nelle prossime settimane si terrà presso i musei civici del Castello Sforzesco di Vigevano, mostra di cui Telepavia è media partner. Vi presento gli ospiti di questa sera che sono Stefano Bressani, buonasera. Buonasera, ciao a tutti, ciao a tutti i telespettatori e grazie per averci invitato qui da voi. Grazie a te e Silvia Fabiani, buonasera. Buonasera. Vediamo di spiegare come si è arrivati a questo progetto. Questo progetto ricalca, nelle calzature, quello che sono le sculture vestite che Stefano Bressani sta portando in esposizione negli ultimi tempi con grande successo. Una declinazione di un materiale molto particolare che anche al tatto dà sensazioni piacevoli che fa un uso dei colori sicuramente interessante che se fino adesso era stato portato nei quadri e nelle sculture lo troviamo nelle calzature, calzature che poi si possono indossare, cioè sono opere artistiche che si indossano, ma facciamo un passo indietro. Allora Stefano, queste sculture vestite per chi non ha ancora avuto l'opportunità di vederle dal vivo? Allora sì, sculture vestite è un'idea di un'opera d'arte che nasce alla fine degli anni 90, io sono un artista pavese e sono il padre fondatore di questa tecnica che utilizza appunto i tessuti dei vestiti. Sono sculture realizzate proprio su una base che viene scolpita a mano e rivestita proprio utilizzando parti di vestiti sull'orientamento delle fibre dei tessuti. Ovviamente la riconoscibilità ha fatto sì che in questi anni abbia fatto un excursus artistico bruciando un po' le tappe, però sono riuscito a passare da situazioni dalle quali più o meno passano tutti gli artisti quando incominciano a delle situazioni ben più importanti che sono appunto i musei o situazioni istituzionali come ad esempio il caso di Vigevano per questa mostra. La particolarità delle mie opere mi lega comunque a tre mondi che riescono sempre e comunque a coesistere che sono il mondo dell'arte, il mondo del design e il mondo della moda. Proprio per questo è stato inserito questo progetto appunto che si vede completamente all'interno di questo mondo che poi andremo a spiegare bene di cosa si fa. Esatto, un progetto che ti vede insieme a Silvia Fabiani. Allora Silvia io do la parola a te per spiegare tu che cosa fai e come sei entrata in questa collaborazione. Allora io sono una designer e modellista di scarpe, ho studiato a Milano e pur non essendo nata nella zona del Pavese, sono trentina di origine, mi sono trasferita in provincia di Pavia e ho appunto lavorato in queste zone grazie agli artigiani del Vigevenese. Ho conosciuto Stefano tramite amici comuni e abbiamo unito queste due nostre arti. Io faccio appunto calzature su misura, su ordinazione, pezzi unici già con il mio brand Maison Derriere e abbiamo voluto unire queste due arti appunto. Il mio stile è abbastanza lineare, minimale, minimalista e appunto le linee delle scarpe di questa collezione, di queste dieci scarpe riprende un po' queste geometrie presenti nelle opere di Stefano. Il materiale ha dato questo tocco in più di grinta e di particolarità e spero che queste dieci calzature possano colpire il pubblico di Vigevano e italiano e europeo quando ci sposteremo in giro. Difatti perché questo di Vigevano poi è l'inizio di un percorso che noi tutti ci auguriamo sia davvero molto fruttuoso e che possa portare in nome della provincia di Pavia visto che tutte e due operate sul nostro territorio davvero all'estero prepotentemente. le immagini della nostra regia ci fanno vedere una delle scarpe che saranno esposte, che ci avete gentilmente portato in studio. Allora spieghiamo di che cosa si tratta. Allora sono delle scarpe che si possono anche indossare ma fatte come? Che processo c'è dietro? Allora io introduco più che altro il discorso del materiale, poi magari del processo facciamo parlare Silvia anche perché come giustamente ha anticipato lei io mi sono innamorato del suo modo di lavorare perché si sposava assolutamente con la mia filosofia. Le mie opere sono tutti pezzi unici numerati e anche lei lavorando sul pezzo unico risultava ben più che adatta da coinvolgere in questo progetto che è all'inizio anche un progetto ambizioso. Però è piaciuto molto, è stato ritenuto comunque sia per il materiale che per la tipologia dell'espressione è ottenuta comunque un progetto innovativo. Il tutto nasce all'inizio del 2012 quando io conosco questa azienda di Vigevano che è Italian Converter, la quale fornisce tessuti per l'alta moda. Con loro ho collaborato per la realizzazione di un materiale che potesse appunto riprendere la tridimensionalità dei miei lavori. Se lo possiamo far vedere, questo è un esempio che poi ritroviamo sulla calzatura che abbiamo presentato qui che è praticamente stata classificata tra i 12 modelli con una sigla perché le scarpe si chiamano tutte sculto shoes. È un nome che è stato identificato per andare diciamo a rappresentare la scultura calzatura. Questo materiale arriva da una mia fantasia che è stata registrata che si ripete nelle nostre installazioni artistiche delle scarpe sotto diverse forme di materiali e di colori. Si chiama Maliumbas, viene rappresentata e viene prodotta tramite un processo di stampaggio a caldo che si è definito nel mondo della calzatura embossing. Diciamo che il riproporre la tridimensionalità delle mie opere su questo materiale ha reso possibile la vestizione di questi oggetti. Quindi è stata una cosa ritenuta molto innovativa. Stefano, io vorrei davvero focalizzare questo aspetto perché si tratta di una tecnologia che quindi hai sviluppato tu con questa azienda vigevanese e di fatto è un materiale nuovo, possiamo definirlo così, anche se strutta tecniche già utilizzate. Sì, è un materiale nuovo, è stato già presentato a Linea Pelle, a Premier Vision a Parigi, già presentato in situazioni dove comunque gli addetti ai lavori che riguardano praticamente il campo della calzatura e dei materiali è assolutamente su questo pezzo. Diciamo che i vari modelli che abbiamo poi deciso di fare con Silvia sono stati studiati sicuramente sul taglio che lei utilizza per le sue scarpe che appunto è, come diceva, molto minima ma si sposa assolutamente bene con la tipologia del materiale. Quindi abbiamo cercato di dare spazio sia alle forme che appartengono al suo modo di concepire, di disegnare la calzatura, alle forme della fantasia stessa. Un materiale morbido, in rilievo appunto con queste fantasie tratte dai tuoi quadri. Esatto, poi sulle scarpe vengono comunque riproposte diverse tipologie perché ci sono dei laminati, ci sono delle nappe, ci sono comunque degli accopiati che vengono appunto poi resi tridimensionali tramite appunto questa tecnica. Silvia, tu poi com'è che hai affrontato questo problema, questa sfida e questa opportunità? Allora, diciamo che questo tipo di materiale applicato alla calzatura all'inizio ha presentato un po' di problemi perché appunto è nuovo e anche l'artigiano che è andato a lavorare e poi ad assemblare poi la scarpa ha trovato alcune difficoltà. Ho superato questo scoglio dei prototipi, ho avuto appunto la massima disponibilità di questi artigiani della zona di Vigevano e il risultato devo dire che è stato ottimo, veramente molto molto soddisfacente. Cosa ti dicevano gli artigiani? Eh, allora diciamo che qui sono abituati a lavorare con cose più classiche e quindi l'approccio è stato un po' all'inizio diffidente ma poi una volta visto il risultato sono rimasti molto contenti e speranzosi per un futuro un po' più innovativo della calzatura in questa zona. Sì perché chissà potrebbe anche, questa adesso è una forma d'arte però chissà potrebbe anche dare in via. Puoi spociare in qualche cos'altro. Mi spieghi meglio come è avvenuta poi l'ispirazione, cioè da come sei partita dalle suggestioni delle opere di Stefano poi per arrivare al disegno vero e proprio. Intanto spieghiamo che sono quasi tutte quelle che esponete scarpe con intacco. Eh sì, allora io faccio scarpe su tacchi 14, 15, abbastanza aggressive. Diciamo che il tutto è partito dalla scelta del materiale. Siamo andati appunto nell'azienda Italian Converter, abbiamo fatto una scelta di questi materiali che loro propongono, che vanno dai laminati ai velluti alla nappa, ci siamo lasciati ispirare dai colori che ci hanno colpito di più. Una volta scelti questi materiali e colori ho disegnato le calzature basandomi un po' su appunto queste geometrie di linee, un po' immaginandomi qual era il giusto abbinamento con il materiale. È stato un processo un po' lungo perché non è detto che il primo disegno è poi quello giusto, è stato quasi un anno di scelta di disegno abbinato al materiale, finché poi abbiamo ottenuto il risultato. Sono scarpe abbastanza forti che vanno da, dallo stile un po' fetish del latex nero a cose un po' più romantiche come con l'utilizzo del velluto. Eh sì, perché noi ne stiamo vedendo una sola in studio però poi in questa mostra che si avrà appunto a Vigevano e che aprirà nella giornata di sabato si potranno vedere le vostre creazioni. Poi nella seconda parte di trasmissione vi daremo tutte le informazioni. La cosa bella che si diceva prima è che poi si possono calzare queste scarpe. Non so chi dei due me ne vuole parlare. Io magari introduco solo il discorso del perché. Allora, intanto vorrei appunto dire che Silvia è stata bravissima perché abbiamo veramente fatto pochissimi incontri prima di capire che cosa fare insieme. È stata una cosa che è nata più di pancia che di testa, come si dice. L'idea di questa mostra che ha il titolo Walking the Art nasce proprio perché volevamo dare un taglio alla mostra diverso dalla solita installazione artistica di opere d'arte barra calzature immettibili. Walking the Art vuole significare proprio anche il discorso della camminata nell'arte comoda. Quindi una persona che viene a visitare la nostra mostra ha questa passeggiata all'interno di una mostra d'arte con queste dodici installazioni più una che poi diremo cosa sarà. Però si tratta di scarpe che sono comunque portatrici di un comfort che fa parte proprio del manufatto della scarpa in sé. Adesso poi comunque Silvia la mia linea Maison Derriere utilizzando tacchi alti, questi tacchi sono abbastanza, almeno le mie clienti dicono che sono molto confortevoli malgrado l'altezza. Principalmente per l'utilizzo di ottimi materiali, tutti made in Italy, tutti i componenti della scarpa che sono fondamentali per il comfort della scarpa. Ci tengo a precisare, prodotti qui da aziende di Vigevano fanno sì che la scarpa sia comunque comoda e tutta questa collezione anche di Sculpto Shoes fanno parte della mia produzione reale dove vengono utilizzati questi materiali confortevoli. Quindi sono assolutamente scarpe immettibili come quelle che realizzo io normalmente. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo fra poco perché abbiamo ancora un paio di sorprese da svelare. Ancora buonasera, da Extra stiamo parlando di una forma d'arte che prevede un incrocio fra la scultura e la calzatura, delle scarpe che sono opere d'arte ma che, come abbiamo spiegato prima della pubblicità, si possono anche indossare, che saranno in mostra a partire da sabato 14 marzo al castello di Vigevano. Beh, diciamo innanzitutto perché la mostra è a Vigevano? Beh, innanzitutto diciamo per due motivi. La prima perché io ritorno a Vigevano dopo tre anni. Nel 2012 proprio questa scarpa che vedete è stata introdotta in una mia personale alla strada sotterranea. Vigevano perché è riconosciuta nel mondo come essere la patria della calzatura. Quindi si è voluto posizionare la bandierina di una mostra che sarà itinerante in Italia e mi auguro anche all'estero proprio nella città patria della calzatura. Quindi siamo stati ospitati alla seconda scuderia del castello che è uno degli spazi penso più belli o prestigiosi del castello Sforzesco di Vigevano. Quindi sono anche molto contento e ringrazio anche l'assessorato alla cultura che ha fatto sì che potesse prendere vita a questo progetto. Sono tutte scarpe da donna tranne una. Perché? Beh, allora, abbiamo interpellato ovviamente le eccellenze di Vigevano e Moreschi che risulta essere il main sponsor dell'evento ha collaborato nella realizzazione di una calzatura che ha un taglio completamente diverso dai 12 modelli che andremo a disporre da donna con la realizzazione di una scarpa da uomo realizzata sempre con il maliumbas sotto forma di velluto però. Non voglio svelare nient'altro perché mi auguro che chi può essere curioso possa venire alla mostra a vederla di persona. Bisogna sicuramente andarla a vedere al castello di Vigevano rimarrà fino a qualche settimana. Sì, la mostra inizia appunto sabato 14 alle ore 17 con l'inaugurazione e durerà fino al 19 aprile e alle 16.30 del 19 aprile ci sarà questo evento di finissage dove proprio questa scalzatura che è l'ascolto shoes, che è il numero uno, verrà poi inserita nella collezione permanente del museo della calzatura. Non ce la lasciate qua. No, ma meglio perché così insomma tutti coloro che andranno a visitare il museo della calzatura di Vigevano nei periodi a venire anche dopo la fine della mostra avranno comunque una testimonianza di questo primo seme che voi avete voluto gettare. Tra le altre cose io vorrei pubblicamente ringraziare Silvia per la collaborazione e la sua professionalità che è riuscita ad adoperare per questo progetto e tutti gli sponsor che sono intervenuti per la realizzazione di questa cosa che all'inizio sembrava quasi un po' folle e in realtà nell'arco di due anni ha preso finalmente vita e potrà forse in futuro vivere di luce propria in altre location. Sì, di fatti vi chiedo qual è poi l'obiettivo a lungo termine, voi immagino avete anche dei sogni riguardanti questo tipo di creazione, come vorrete far proseguire questo discorso? Ma in realtà non abbiamo ancora ben pensato a dove poterla portare, in realtà ci sono delle location dove mi piacerebbe poi presentarla, una volta sviluppato questo progetto è presentato in questa mostra di Vigevano, ci sarà un catalogo, ci sarà un progetto strutturato che andremo a presentare non solo in Italia ma anche all'estero, uno dei miei sogni sarebbe appunto riportare perché no magari proprio a Parigi che è una delle capitali della moda questa innovazione stilistica dal punto di vista scambio tra moda e arte in modo continuo, anche perché non abbiamo accennato che le scarpe sono nate anche con l'intento di farle essere sia indossabili che anche scultura, quindi nulla toglie il fatto di poterle ammirare sul proprio mobile di casa. Beh certo, certo, essendo opera d'arte può essere tranquillamente esposta senza essere poi calzata normalmente, sì sì, quello è certo, parte come arte però ha la facoltà in più. Anzi nulla toglie di prenderne due, una da indossare e una da tenere sul mobile, perché no? Potrebbe essere un'ottima idea, si chiamano, le avete chiamate Sculpto Shoes, la mostra invece si chiama Walking the Art e aprirà sabato 14 marzo presso il castello di Vigevano, la seconda scuderia. Per chi volesse magari trovare qualche informazione in più riguardo agli orari, ad esempio sul mio sito, se lo possiamo dire, www.stefanobressani.com, nella sezione delle news c'è la locandina con tutti i riferimenti per poter venire alla mostra a trovarci. Grazie a Stefano Bressani, grazie a voi, grazie a Silvia Fabiani, grazie a voi telespettatori e vediamo un fruttamento con le prossime puntate di Extra, arrivederci.